Un posto al sole, le ultime sulla messa in onda, la decisione della Rai. Clamorosa novità per tutti gli appassionati del celebre melodramma napoletano Un posto al sole. La telenovela napoletana Un posto al sole è una delle più longeve della televisione italiana. L'improvviso arresto di Rai si avvicina. La celebre serie TV, infatti, va in onda da 25 anni, e il numero di telespettatori affezionati è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni. Lo confermano anche i dati di ascolto, che stagione dopo stagione diventano sempre più soddisfacenti per la Rai, la casa di produzione e i protagonisti. Tuttavia, le soap opera a volte devono fare i conti con le richieste di programmazione della rete. Per questo motivo, a quest'ora, ci è arrivato il messaggio che il canale ha interrotto improvvisamente le trasmissioni, ma vediamo cosa succede. Un posto al sole, ultima trasmissione, la decisione di Lai non solo il cast è tornato per fissare una nuova data dopo la consueta pausa estiva, ma anche soap è tornato in onda. Come sempre le nuove puntate andranno in onda su Rai 3 da lunedì al venerdì intorno alle 20 e 45. Tuttavia, questa settimana, che sta per iniziare, è un po' diversa in quanto andrà in onda con un nuovo programma. Infatti, secondo lo spettacolo attuale, gli spettatori dovranno saltare uno degli episodi originariamente previsti. Questa soap in realtà va in onda da lunedì 4 settembre a giovedì 7 settembre e non va in onda venerdì 8 settembre come previsto, ma diamo un'occhiata a tutti i dettagli. Post-Arsor, date abbreviate, tutti i dettagli e quindi, se soap va in onda regolarmente su Rai 3 fino a giovedì 7, aspettate un cambio di spettacolo venerdì 8 settembre. Infatti, secondo una nuova decisione dei vertici del canale, quel giorno, all'indomani di uno speciale dedicato alla mostra del cinema di Venezia. Lo slot normalmente assegnato a Torp è stato invece assegnato alla mostra del cinema di Venezia Diamond League di Bruxelles, assegnato alla sfida di atletica leggera. Ma cosa accadrà con la prossima promessa? Il pubblico si troverà ad affrontare diversi colpi di scena, tra cui la decisione di sposare Rossella e Riccardo. Inoltre Marina lascia Palazzo Paladini con Lara, che cerca di guadagnare maggiore fiducia di Ferri, insospettindo Ferri nei confronti del giovane Tommaso.